Ciao amici e amici, dalla vostra gattaluna con questo look regina delle nevi. Sono qui per parlarvi su Instagram, forse pubblicherò anche su YouTube, vedremo, per parlarvi di un marchio di cui vi ho parlato tante volte, probabilmente vi ho fatto anche una capa tanto, ma sono prodotti con cui veramente ci si trova bene e danno un prezzo concorrenziale. Bene, questo qui non ha bava di lumaca, è di Imim ed è una crema anti-age che si può usare sia di giorno che di sera su tutto il viso, sul viso con già il vostro siero ed è appunto, vediamo, vi dico meglio, aspetta che devo tirar giù un po' gli occhiali e vi dico, sono 50 millilitri, Luxury Hydration Anti-Aging Face Cream, ok, poi c'è anche il tedesco, ma eviterei, e nelle istruzioni che c'erano anche in italiano, ho letto attentamente, si può usare di giorno e di sera. È un'ottima crema, fa i miracoli? No, però idrata molto bene e il prezzo è eccezionale. Vi lascio il link ad Amazon dove l'ho acquistato anch'io e a me l'hanno omaggiato con un loro buono e sono qui appunto per parlarvene e per dirvi che se siete interessati e interessate, se volete una buona crema giorno-sera di poco prezzo, low cost, ma buona, potete andare sul link che vi metto qui sotto. Questo è di Im Im, l'anti-aging night and day, 50 millilitri e passa la paura. Non ha particolare profumo, è piacevole all'indosso, non è untuosa e, ripeto, se ne avete bisogno io ve la consiglio. Fatevi sapere se la prendete e come vi trovate. Ciao! Scusate l'appoggio perché devo fermare il video. Alla prossima! Fate quello che vi fa stare bene!